E tra gli ospiti del nostro programma il Molise che va in onda questa sera alle 21 e domani in replica alle 15 e 30 anche il sindaco di Carpinone Pasquale Colitti, il paese gode di cascate naturali e di un gruppo folcloristico capace di tramandare le tradizioni negli anni e portare avanti anche una nuova idea di turismo. Ma andiamo a vedere un estratto. Sindaco, i giovani di Carpinone si sono rimboccati le maniche e stanno scoprendo dei tesori di questo comune. Beh sì, grazie ai giovani in genere di Carpinone, nella specie i ragazzi di Molise Nection, un'associazione che è sorta da poco ma che già tanto ha fatto. Giovani di Carpinone, forse qualche anziano anche, si arma il decespugliatore il giorno e va a riscoprire la sentieristica naturale che porta appunto conduce alle cascate. Diverse cascate, ne sono tre, tutte e tre visitabili. L'11 e 12 luglio mi sembra di ricordare che organizzano un acqua trekking per la famiglia, quindi percorsi non particolarmente accidentati e disponibili e fruibili a tutti. Giovani che si stanno dando tanto da fare, stanno riscoprendo e valorizzando un patrimonio che abbiamo sempre avuto sotto gli occhi e nelle mani, ma non ci siamo mai resi conto di quanto potesse valere. Carpinone, come detto, è un paese ricco di tesori naturalistici e culturali. Ha ai carpinonesi il compito e l'onore di riscoprirli e portarli, offrirli alla massa e alla moltitudine della gente, ma lo stanno facendo e lo stanno facendo bene. Il fiore all'occhiello e anche il gruppo folcloristico Rumacca Tour, quest'anno che succederà? Beh, allora, più che fiore all'occhiello, ormai il gruppo folcloristico Rumacca Tour si identifica in Carpinone e Carpinone, non ho paura a dirlo, si identifica nel gruppo folcloristico, perché nel mondo il nome di Carpinone è stato portato proprio dal gruppo folcloristico, da questi ragazzi che negli anni si sono avvicendati in questo gruppo, ma con costanza hanno lavorato per far conoscere il nome di Carpinone e le tradizioni popolari del paese. Quest'anno è una grande domanda, io sono sicuro che il presidente Michele Castrilli non ci lascerà bocca asciutta, qualcosa sta preparandomi, ci sono sentito telefonicamente e mi ha detto che effettivamente si stava organizzando per fare un qualcosa sfruttando i moderni mezzi di comunicazione, quindi per rimanere nello segue e nel rispetto della normativa anti-Covid sta cercando di inventarsi qualcosa. Io sono sicuro, spero, ma sono sicuro che ci riuscirà e quindi qualche sorpresa alla fine ce la farà.